Nella giornata di ieri i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per l'ammontare di oltre un milione di euro nei confronti di un noto imprenditore locale indagato per evasione fiscale. Gli accertamenti sono stati avviati dopo la verifica della posizione di una società di Capaccio Pestum operante nel commercio dei prodotti ittici da parte delle fiamme gialle della prima compagnia di Salerno. Attraverso l'incrocio delle banche dati in uso è emerso un notevole disalineamento tra i ricavi dichiarati al fisco e quelli che risultano effettivamente conseguiti. L'amministrazione finanziaria infatti riesce a tracciare analiticamente i rapporti commerciali che imprese e professionisti intrattengono con fornitori e clienti, potendo rilevare grazie a specifici applicativi informatici tutte le fatture emesse e ricevute. Nel caso di specie gli alert sono stati diversi, prima tra tutti la montare pressoché nullo dei guadagni attestati, pari ad un solo euro, il minimo sindacale, per non incorrere nelle più gravi fattispecie di omessa dichiarazione. Oltre alle forti discrasie rispetto ai dati degli ultimi anni, sintomatica del resto l'assenza di versamenti d'imposta con i F24, come pure l'ubicazione a Roma ancorché sulla carta della sola sede legale. Al termine delle indagini i militari hanno così scoperto in relazione al solo anno 2018 quasi 5.000 fatture di vendita emesse per un totale di circa 6 milioni di euro, di elementi positivi sottratti all'imposizione dell'IVA e delle imposte dirette. Alla luce di queste risultanze, per garantire il pagamento dei crediti erariali, il GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica alla sede, ha disposto il sequestro dei beni nella disponibilità della società e dell'amministratore, fino alla concorrenza dell'importo complessivo dovuto allo Stato, che supera il milione di euro. Nel corso delle perquisizioni, i finanzieri hanno così rinvenuto e cautelato denaro contante per oltre 120.000 euro, nonché assegni e cambiali, orologi di valore, tra cui un Rolex d'oro stimato in almeno 15.000 euro, 6 auto e una moto per un valore complessivo di circa 250.000 euro. In base alle soglie di punibilità previste dalla normativa penal tributaria, il sessantenne indagato in caso di condanna definitiva per il reato di dichiarazione infedele rischia fino a quattro anni e mezzo di reclusione.